Poteva sembrare una settimana tranquilla visto lo stop del campionato e i tanti nazionali assenti e invece per i ragazzi di Sinisa Mihajlovic non è stato così, è stata praticamente una settimana tipo decisamente dura con allenamenti a ritmo forzennato e intensità altissima, volti stanchi e sofferenti ma consapevoli che i frutti degli sforzi quotidiani si vedranno presto a revolution, take its toll, if you could, I think I switch and open your third eye it's either, but we should never